Nella parte sottostante c'è il disegno di queste quattro donne, sono delle foriane in costume tradizionale che erano devote di Sant'Antonio e l'anno risale al 1481. Entrando nella chiesa, alla parte destra troviamo la statua di San Stanislao e questa statua qui originariamente c'era scritta Santa Brigida ma invece in effetti è Santa Restituta perché viene citata nel libro di Pasquale Polito che era un cultore di Santa Restituta e ha scritto un libro sull'alcameno e la storia della Santa che praticamente descrive che nella chiesa del soccorso c'è una statua a linea dedicata a Santa Restituta. La parte sinistra troviamo entrando nella chiesa, lecce omo ed è in carta pesta. Non sappiamo chi l'ha fatta ma comunque è di pregevole fattura. E ha presso San Luigi che era un santo di Castiglione dell'Estiviere dell'Alta Italia ma qui molto devoto perché c'era addirittura nei tempi passati venivano i bambini a fare il croce e il catechismo e li chiamavano la segreta di San Luigi. Questo illustre foriano che voi vedete qua è padre Filippo Balsofiore che praticamente è un agostiniano e praticamente di lui si sa poco ma era una persona molto intelligente che ha scritto molte poesie, molti trattati. Evidentemente ci deve essere anche un piccolo puscolo riguardante la vita di questo agostiniano e vedremo se riusciremo a trovare notizie più approfondite. Questa pilla dell'acqua è molto pregevole, è stata fatta dallo scultore Vincenzo Borchera ed è datata 1510. Tutti questi piccoli modellini di barca che voi vedete tutti intorno ai cornicioni che una volta ce n'erano ancora di più però come mi dicono alcune persone anziane, qualcuna è sparita quando hanno costruito il muraglione perché evidentemente faceva gola a qualche ingegnere per tenerselo a casa, rappresentano gli ex voti dei marinai o degli armatori oppure dei capitani marittimi che affidandosi alla protezione della Madonna praticamente ricostruivano il modellino del loro veliero e lo affidavano alla protezione della Madonna in quanto sapete benissimo che quando si andava per mare il vento forte, le onde potevano rompere attrezzature e altre cose e quindi praticamente creare danno, non solo morti praticamente. Oltretutto la chiesa del soccorso è un punto di riferimento non solo ideale, spirituale ma proprio fisico per i pescatori. I pescatori mi dicevano e gli anziani che quando venivano il vento del tramontano e non potevano per esempio cucire le reti sul molo, se ne venivano qua al soccorso perché ci sono dei punti in cui il vento non prende proprio e lavoravano fino alla sera praticamente e poi mi raccontavo, ho sentito dire anche da alcuni parroci durante le loro prediche che addirittura quando i capitani dovevano partire con le loro barche venivano insieme alle famiglie dell'equipaggio, si facevano benedire e poi andavano via perché ad andare si andava ma a ritornare non si sapeva che tempo fosse oppure che tempo prendevano, uragani, tempeste se ritornavano in santa pace, sani e salvi. Per chiudere questa piacevolissima chiacchierata, la scoperta della chiesa del soccorso a metà perché chiaramente sul museo anticipo che faremo una puntata a parte perché chiaramente tante sono le cose da dire perché tanta è la ricchezza di questa chiesa, ci troviamo all'esterno, intanto le cinque croci che certamente stimolano un po' la curiosità, cosa vogliono rappresentare? Le cinque croci rappresentano i cinque misteri dolorosi, di fatti sotto la prima croce trovate Gesù nell'orto del Giazzemani, la seconda croce è Gesù legata alla colonna, la terza croce invece è Gesù davanti a Erode e Pilato, gli mettono la canna in mani, il mantello rosso e la corona di spine. Nella quarta croce c'è Gesù che va verso il Calvario con la croce addosso e praticamente l'ultima croce che una volta era più alta delle altre rappresenta la crocifissione di Cristo. Gesù che muore in croce. Evidentemente è stato un errore del falegnamo, non ha capito che la croce più alta rappresentava il fulcro della via crucis, cioè la crocifissione. Quindi quando forse è stato restaurato. Sì, perché le croci sono state fatte da capo in quanto erano molto deteriorate e bisogna dare al più presto una mano di nero perché altrimenti qua il mare se le mangia. Vicino al mare chiaramente. Nelle maioliche che vediamo di fronte abbiamo i quattro evangelisti, San Giovanni, San Luca, San Marco e San Matteo. Purtroppo sono stati anche oggetti di atti vandalici diciamo. Ma più che altro qualche mattonella è caduta, come vedi non l'hanno sostituita con quella che avevano perché è un po' difficile riprodurre un'altra volta quel tipo di mattonella. E poi al centro c'è il cuore di Gesù, intorno delle anime purganti e a destra e a sinistra c'è San Pietro e San Paolo. Però piano piano la potete riprendere, sta un po' più nascosto. Queste qua sono frontali. Chiudiamo Mario questa chiacchierata facendo riferimento a questo splendido piazzale, purtroppo forse un po' trascurato, che ha ospitato un evento storico straordinario, la presenza di Giovanni Paolo II. Nel 2002 è stata messa una lapide al ricordo, nonché piantato un olivo in quel punto lì. Poi il Papa naturalmente era proprio dove stiamo noi qua, con la croce del crocifisso e lui a fianco, come abbiamo visto le fotografie all'interno, nell'angolo dedicato a San Giovanni Paolo II. Questo versante di Forio è caratterizzato, oltre che dalla Chiesa, anche come punto geografico, perché noi diciamo punta imperatore, punta caruso, ma anche punta soccorso, oltre che dedicato alla Madonna è anche una denominazione geografica del posto. E sono questi riferimenti anche quelli che i pescatori utilizzano per trovare a mare i punti? Sì, quando loro si estendono fuori hanno dei determinati tipi di segnali, nel senso mettendosi in una determinata posizione con il soccorso in un certo punto che si collega con così, hanno le loro secche o le loro cose per poter pescare o prendere i passaggi dei pescatori. O andare a riprendere le reti, naturalmente. Grazie Mario, grazie per questa tua disponibilità, complimenti per la passione. Noi abbiamo cercato di essere il più esauriente possibile. E anche di questa ghiacchierata spero che valga anche per tutti i tassisti che vengono qui se vogliono dire qualcosa in più ai loro clienti quando li portano, perché molte volte non sanno nemmeno il significato delle Cinque Croci, salvando sempre qualcuno che invece è molto preparato. E magari anche a qualche giovane ad essere un po' più attento e più rispettoso di questi luoghi, perché purtroppo tornano... Noi siamo sempre convinti che dovrebbero essere loro che dovrebbero sostituire noi. Noi abbiamo dato il nostro. Speriamo che anche loro vogliano avvicendarsi a noi, anche per far sì per aiutare il parroco, giustamente. Ci vogliono i giovani, non ci vogliono... Le persone anziane servono, ma come consiglio. Assolutamente. E hai fatto riferimento al parroco che ringraziamo nuovamente per la disponibilità. Mi ha fatto piacere anche a lui per la disponibilità che gli abbiamo dato in modo... perché lui è sempre super impegnato, quindi sarebbe stato un po' difficile averlo lui anche con piacere stamattina a dire le cose che riguardano i soccorsi. Però non mancheranno occasioni per coinvolgerlo in altre circostanze. Io ringrazio nuovamente Mario, ringrazio gli amici che ci hanno ascoltato e seguito fino a questa... Alla prossima. Alla prossima, senz'altro, un'altra puntata sul museo... Che sta all'interno. Che sta all'interno della... Che costituisce tante altre piccole particolarità. Da conoscere e diffondere. Grazie a tutti, appuntamento alla prossima puntata dell'album dei ricordi.